L'infertilità maschile ha come causa principale il varicocele, un problema semplice che però deve essere corretto il più presto possibile. Il professor Patrizio Vicini, urologo all'Università Unica Millus di Roma. Allora, cerchiamo di capire cos'è il varicocele. Il varicocele è una dilatazione patologica delle vene del plesso pampiniforme del testicolo sinistro. Va a determinare un aumento di temperatura e quindi un danno alla spermatogenesi e alla fertilità dell'uomo. L'importanza di fare diagnosi precoce il più presto possibile? La diagnosi precoce è di fondamentale importanza proprio perché si è visto che la correzione del varicocele determina comunque un miglioramento dei parametri del liquido seminale e quindi una maggiore probabilità di gravidanza. Come si accorge l'uomo di avere questo piccolo difetto? Il varicocele in genere è asintomatico, può essere presente un senso di pesantezza o fastidio a livello del testicolo sinistro. Oggigiorno purtroppo si arriva a una diagnosi che è abbastanza tardiva perché manca la visita di leva. Quindi di qui l'importanza di effettuare comunque una visita andrologica di prevenzione. Come si corregge il varicocele? Lo scopo dell'intervento deve essere l'interruzione di questo reflusso venoso di sangue al testicolo sinistro. Possibile o tramite le metodiche di chirurgica tradizionali oppure tramite interventi di scleroembolizzazione. Noi in genere consigliamo la sclerosi anterograda che prevede un minimo tagliettino sul testicolo, le vene vengono incannulate e si fa poi una sclerotizzazione. È una metodica mini-invasiva con bassa recidiva, rapido recupero funzionale e miglioramento di tutti i parametri del liquido seminale. Grazie per la visione!